Proviamo in 60 secondi a trovare un giocatore superiore al prime di... Uh, Gullit! Gullit complicatissima, complicatissima! Vediamo un po' chi ci dà... Gareth Bale o Gullit? Gullit da subito, Gullit, giocatorone, ma no! Vediamo un po' Michael Owen, pallone d'oro, ma no! Secondo me pallone d'oro, tra l'altro, immeritato! Vediamo così dal field, vediamo se riusciamo a trovare... Zennarone, Gattuso, no! Zennarone, grandissimo centrocampista, tutto campista, ma no! No, no, non è superiore, ragazzi, mi sa che 60 secondi sono troppo pochi per trovare... Ehi, 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 ehi! Prima di continuare con la storia vi consiglio la migliore app sul calcio, OneFootball Per scaricarla vi basta cliccare sul link nel commento pinnato sotto questo video, semplicissimo e gratis! Al momento preferisco ancora Gullit, voi ditemelo nei commenti!